Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a media e lungo termine. Andiamo a vedere come inizierà il mese di febbraio. Con ogni probabilità rimonterà un'area di alta pressione sull'Europa occidentale, bloccherà l'ingresso alle perturbazioni atlantiche e costrette quindi a fare il giro largo. E così sul nostro paese si instaurà un flusso di correnti nord-occidentali che porterà sì un po' di variabilità sull'Adriatico al sud, ma con condizioni meteorologiche non particolarmente avverse, anzi in molte zone il sole sarà protagonista al nord e sul versante tirenico, però con un po' di vento e con temperature relativamente contenute continua ad arrivare aria piuttosto freddina. Però vi segnalo anche una probabile rimonta dell'alta pressione anche più verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Per tutte le tali sulle vostre località consultate come sempre l'app gratuita di 3B Meteo.